Egregio Signore, io devo assolutamente stare davanti alle vetrine per guardare i commessi che involtano la merce. Ho bisogno di vederli all'opera, perché ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così senza punto interessarmene, anzi per giudicarla sciocca e vana la vita, cosicché non debba importare a nessuno di perderla. E questo da dimostrare bene, sa, con prove ad esempi continui, incessantemente a noi stessi, perché non sappiamo cosa sia, ma c'è, c'è, ce lo sentiamo qua tutti nella gola, questo gusto della vita che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita è lato stesso in cui si vive, è così ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il piacere viene dai ricordi, da quello che noi riusciamo a trattenere nella memoria. Io ho bisogno, io ho bisogno, perché non posso stare a casa come vorrebbe mia moglie, quella disgraziata che mi segue, mi segue, eccola lì, eccola lì, mi segue, mi segue, mi segue perché lei vorrebbe, lei sa in quale stato mi trovo e vorrebbe che io restassi a casa, ma io non posso. Voi pensate, per un attimo, le case di Messina o di Avezzano, sapendo che di lì a poco sarebbero state sconquassate dal terremoto, voi pensate che se ne sarebbero state lì tranquille, obbedienti al piano regolatore, e gli stessi cittadini di Avezzano o di Messina si sarebbero messi a letto placidi, tranquilli, immemori di quanto sarebbe capitato a loro, di lì a poco. No, io non posso stare, non posso stare a casa, no, no, perché, perché, lo vede signore, qua, qua, questo è un epitelioma, la morte mi ha incontrato e mi ha dato questo fiore in bocca e mi ha detto, tientelo, tientelo, fra una decina di mesi io passo a riprendermelo. E io dovrei stare a casa come vorrebbe quella disgraziata di mia moglie, che per amore farebbe chissà che cosa, si è ridotta a un ceggio, una larva. Io non so se provarne piena, rabbia, oppure pena, pena, semplicemente pena. No, non posso. Io devo uscire fuori, io devo uscire, io mi devo distrarre, non posso stare a casa come lei vorrebbe, no, non posso. E credo signore, ci sono delle belle pesche in questo periodo, lei come le mangia, ci sono vari modi per mangiarle. Quando lei andrà a casa, mi raccomando, scelga un fiore dei mille petali e per ogni petalo che lei conterà, sarà un giorno in più di vita che io vivrò. Ma si ricordi, cerchi di sceglierlo ricco di petali. Buonanotte.